Beh, io direi che il Marshall è fuori, è andato, si è bruciato tutto. Oh mamma mia, ma certo, quando tu gli fai vedere musica come quella che naturalmente stiamo presentando... Abbiamo messo Lello, Marenia, scanto, e si è bruciato il Marshall, da paura o scanto. Eh sì, perché poi Lello, voglio dire, si definisce con Marenia social folk, ma bisogna vederlo ovviamente suonare per capire che Lello non sarebbe stato male nell'hardcore punk, in un black flag. Lello è un tizio... la sigla, la sigla, voglio dire, di Stereo Bass. La sigla di Stereo Bass è stata commissionata da Lello Cardone, che ringraziamo, non so quanti soldi abbiamo dato per questa sigla, una marea di soldi. Abbiamo ancora pagato, abbiamo finito. Abbiamo ancora pagato, ma se non hai detto che l'ultima rata l'avevi saldata. Eh, cosa hai fatto con quei soldi? Allora, stavamo parlando quindi prima ovviamente di musica indipendente e parliamo ovviamente di una band che è un'istituzione a Napoli, cioè stiamo parlando dei Gentleman's Agreement, questo è l'album... Con Raffaele Giglio? Raffaele Giglio? Raffaele Giglio che è l'ideatore, insomma, di questa fantastica idea musicale. E questo è Carcarà, Carcarà, non è esattamente l'ultimo album. È la storia di questo personaggio, di Carcarà, che si evolve e si sviluppa poi in questo album. Molto molto bello, davvero originale, davvero allegro, spensierato e non scontato. Un concept, un concept che vede i disegni, se non erro, spero di non fare una gaffa allucinante. Sono avuto di Dario Sansone stesso, di Alessandro Rack, che è un famoso e noto grafico napoletano che salutiamo. Lo scopriremo nella prossima puntata. Eh, vai. Adesso volevamo presentarvi anche un'altra artista indipendente, Lady Gaga, però purtroppo non c'è tempo. Sì, no, no, non c'è tempo. E quindi dobbiamo gagare anche noi. Sì, sì, naturalmente, tenendo sempre presente che certe cose è bene fare, ovviamente, in luoghi appartati. E tutto ciò, naturalmente, tenendo presente che questa, chiaramente, è una delle puntate o del lunedì o del mercoledì o del venerdì. Sicuramente del venerdì. Sicuramente del venerdì. Sicuramente del venerdì. Sicuramente del venerdì. E se poi capita di mercoledì? Non può capitare di mercoledì. E ma chi li ascolta, per esempio, su YouTube ed è un giorni dì? Li possono ascoltare solo il venerdì. Li possono ascoltare solamente il venerdì? Sì, c'è questo blocco. Ah, e vabbè. E allora, se Andrea mi dice questo, io, naturalmente, vada sta, chissà solo le faccende. Chi si sono pazze. Chi si sono pazze. Noi vi ringraziamo. Chi ci ha ascoltato solo audio, ovviamente, potrebbe non capire tutto quello che è accaduto. Ma secondo me ha capito. Ma si ha specificato tutto. Ah, sì. Poi gli pubblichiamo anche cose sulla pagina Facebook, su Pinterest, su SoundCloud, un po' di stalking musicali. A più ne metta. C'è una persecuzione delle prove. Tra l'altro c'è la signora Carmela che ci aspetta con un'altra tazzola di Lecafe. Ma non era Concetta? Concetta, sì. Lo sai che io sono bruciatissima. Eh, lo so. Come il Marshall. Lo so. Io sono naturalmente arrivato ai 90 anni e sono tornato a meno 10 e lui naturalmente... Sono arrivato ai 95. Ciao a tutti. Ciao, arrivederci. Ciao.